Me amici, oggi vi porto con me a fare un cappellino personalizzato che ho pagato 15 euro Stavo passeggiando per questa fiera, ho intravisto questo stand meraviglioso in cui si potevano fare dei cappellini personalizzati Loro ho detto no, lo devo fare per forza Quindi ho scelto il colore del cappellino, questo possiamo definirlo bianco caldo perché non è totalmente bianco ma c'è una punta di giallo Poi ho scelto anche la scritta e i colori con cui farla e ho deciso di scrivere Poche idee ma confuse E mentre la ragazza stava praticamente quasi per terminare questo capolavoro Io stavo già pensando a qualcos'altro che potesse completare questo cappellino Per far sì che mi potesse rappresentare veramente al 100% e fosse realmente personalizzato Secondo voi cosa potevo scrivere dall'altra parte? Me, ed eccolo qui Però questa volta ho deciso di farlo tutto intero blu Questo blu notte Ed eccomi qui che ve lo faccio vedere Credo mi rappresenti perfettamente e fatemi sapere voi che cosa ne pensate nei commenti